ben ritrovati di nuovo su reviewing you passavontagna da sci da snowboard questo è quello che vado a recensire insieme a voi quest'oggi 8 euro su amazon link in descrizione disponibile in diversi colori tra cui rosso e bianco su questa parte qua il resto è sempre nera taglia unica arriva in questa confezione di plastiche come vedete anche dalla confezione è ideale per tantissimi sport e attività io l'ho comprato per sciare avevo già recensito un passamontagna in pile mimetico lo trovate sul canale il video della recensione però ho deciso di prendere qualcosa di più leggero in termini di materiale quindi non si tratta più di pile qualcosa anche che fosse pensato diciamo appositamente anche per una questione di traspirazione come vedete qua sulla parte della bocca dove può essere coperto anche il naso c'è questa parte qua che è forellata diciamo e che è pensata appositamente per respirare meglio il resto è comunque elasticizzato scusatemi termico quindi mantiene il caldo e comunque è adatto anche per poter essere messo sotto il casco da sci e ho anche il casco color andate in moto devo dire che quindi è un prodotto che mi ha convinto taglia unica però devo dire che si adatta bene sul capo quindi non è un problema e poi si può utilizzare sia per coprire il naso e la bocca ma anche come lo so solo per coprire la bocca ma anche come scaldacollo eventualmente è disponibile quindi si possono effettuare diverse combinazioni le cuciture sono anche ben fatte e devo dire che per il prezzo che ho pagato rispetto agli altri che ho visto sul web l'ho trovato un prodotto veramente valido link in descrizione se avete domande non esitate a pormene grazie 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 grazie